Master School si sviluppa come un'app per smartphone e tablet che ha l'obiettivo di permettere agli studenti, principalmente delle scuole medie e superiori, di apprendere facilmente e velocemente tutti gli argomenti relativi alle loro materie di studio. I nostri clienti potenziali saranno circa 50 milioni di studenti in tutto il mondo che parlano le lingue italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese. La maggior parte degli studenti si affida ad app che gestiscono materie specifiche. Master School offrirà loro tutte le materie dei loro corsi di studio all'interno di un'unica applicazione. I punti di forza di Master School sono il riassunto an automatico, il chatbot, le logiche di apprendimento in base ad azioni compiute all'interno dell'applicazione che faranno in modo che lo studente possa giocare e allo stesso tempo imparare all'interno della nostra app. Un altro punto di forza importante sono le app educative già presenti sul Play Store e sull'Apple Store già da noi sviluppate e di cui, ricordiamo un caso di successo, Fisica Master, un'applicazione che ha già superato i 50 mila download e ha un buon seguito. Lo studente apprenderà giocando grazie alle logiche di ricompensa in base ad azioni compiute all'interno dell'app. Quindi lo studente imparando acquisirà dei punti. Questi punti saranno spendibili per sbloccare nuove funzionalità all'interno dello shop presente in Master School. In una prospettiva di tre anni, i risultati che ci aspettiamo raggiungono al dodicesimo mese 12.000 utenti attivi giornalieri, al ventiquattresimo mese circa 22.000 utenti giornalieri e al trentaseiesimo mese 28.000 utenti giornalieri. Grazie.